Tu hai un fratello nel secondo battaglione? Sì, signore. Stanno per finire in una trappola. L'ordine è consegnare un messaggio, perché fermino l'attacco di domani mattina. Se fallite, sarà un massacro. Abbiamo l'ordine di passare. Quella è la prima linea tedesca. Al riparo! Se non siamo furbi, nessuno salverà tuo fratello. Lo salvo io. Questa guerra può finire solo in un modo. Vince chi sopravvive. Non possiamo fermarci. Andiamo! Che ti salta in mente? Non ce la farai mai in quel modo! Se non arrivate lì in tempo, perderemo 1600 uomini. Tra cui tuo fratello. Buona fortuna. Speravo che oggi fosse un giorno buono. La speranza è una cosa pericolosa. La speranza è una cosa pericolosa. Grazie a tutti